Ieri, 29 agosto, si sono svolti i sorteggi della nuova formula della UEFA Champions League. Le squadre italiane hanno scoperto quali avversarie affronteranno in un girone unico, composto da 36 squadre. Queste si sfideranno per conquistare uno degli otto posti che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale. In caso contrario, dovranno affrontare i play-off, rischiando l'eliminazione. La Juventus, inserita nella seconda fascia durante il sorteggio di Nyon, dovrà vedersela contro squadre di alto livello, tra cui Manchester City di Pep Guardiola, Lipsia, Benfica, Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stoccarda e Aston Villa. La nuova formula prevede otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, tutte in gara secca senza ritorno. Sarà fondamentale non solo vincere, ma anche segnare più gol possibili e subirne il meno possibile. In caso di parità di punti, diversi criteri verranno utilizzati per determinare chi accederà al turno successivo, ai play-off o sarà eliminato. Domani, 31 agosto, la UEFA comunicherà le date delle partite di Europa League e Conference League dopo aver completato i relativi sorteggi. La Juventus torna in Champions League dopo un anno di squalifica, a seguito di vicende ben note e ancora mal digerite dai tifosi. Quest'anno, la vecchia signora si è rinnovata con l'obiettivo di aprire una nuova era, puntando a nuovi traguardi. Prima di scoprire le date della nuova UEFA Champions League, domenica sera la squadra di Tiago Motta affronterà la Roma all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus, attualmente capolista, cercherà di mantenere il primato contro una Roma che arriva alla sfida con un pareggio nella prima giornata a Cagliari e una pesante sconfitta casalinga contro Lempoli. La Juventus potrà schierare, oltre ai calciatori già convocati contro Como e Verona, anche i nuovi acquisti Nico González, Theon Copp Meiners e il giovane Francisco Conceisão. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Tiago Motta di mantenere il primato in classifica e affrontare con serenità la pausa per le nazionali. Al contrario, una sconfitta darebbe spazio alle critiche, soprattutto da parte di quei nostalgici sempre pronti a puntare il dito. Affrontare la Roma non sarà facile, così come non lo è mai battere qualsiasi squadra, soprattutto se non si gioca al meglio. In ogni caso, torneremo a parlare della sfida contro la Roma domani, dopo la conferenza stampa di Tiago Motta. Nel frattempo, i tifosi della Juventus possono godersi il ritorno nella massima competizione europea.